Oggi vi lascio con grande pirla di saggezza, suo amore, di mio maestro di Okinawa. Benissimo! Cioè? 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 Magari ti chiamerò, trottolino amoroso, e di due da da da. Mi sembra che l'ha già sentita, sa maestro? Grande pirla di saggezza, di maestro di Okinawa. Quale sarebbe il maestro? Amedeo Miyagi. Vabbè, era minghi, ma fa niente!